Poi vedo un uomo seduto lì a vendere verdure, che risplende. Lui semplicemente mi guarda, i nostri occhi si incrociano, poi lui scoppia a ridere. Anche io rido. Poi mi racconta la sua storia. Questa è una cosa con cui gli esseri umani non sono venuti a patti. Quindi, se diventi consapevole di questo, tutte le straordinarie possibilità dell'essere vivi diventeranno tue. Vieni chiamato un essere umano. Voglio che tu capisca il significato di questo. Essere umano non significa che sai come correre, che sai come saltare, che sai fare il circo nella vita. Sai come essere. Essere umano significa che sai come essere. Questa è una cosa che non sai sfortunatamente in questo momento. Ora, se devi essere, dobbiamo tornare ad alcuni fondamentali. Sei mortale o immortale? No, no, no. Osservalo e dimmi. Sei mortale o immortale? Sinceramente, dimmi. Oh, questo significa che stai dicendo che morirai un giorno, va bene? Va bene, morirai un giorno? Ti benedirò con una lunga vita, ma morirai comunque con la benedizione. Perché questa è la natura della vita. Deve morire, non è così? E quanto sono contento che morirai. Perché se vivessi per sempre, sarebbero tanti problemi, non è così? Con un breve lasso di tempo, che disastro stiamo facendo? Supponi se non morissi. Un disastro totale, non è così? È buona cosa morire, ci siete? È buona cosa morire? Al momento opportuno, non oggi. Al momento opportuno, è buona cosa per tutti noi morire? Voglio che tu capisca questo. Questa è una cosa con cui gli esseri umani non sono venuti a patti. Se semplicemente imparano a gestire la loro mortalità con grazia, la vita si apre in modi straordinari. Al momento, sì, Sadhguru, ma il mio orrorscopo dice che vivrò fino a 90 anni. Il tuo orrorscopo può dire qualsiasi cosa. Anche l'uomo che ha scritto il tuo orrorscopo potrebbe essere morto prima che il suo orrorscopo lo dica. L'unica ragione, l'unica ragione per cui ti comporti con ragionevole buonsenso è perché sei mortale. Sì o no? Se foste immortali, che fareste tutti voi, o mio Dio? Quando stai guidando a Calcutta, ci sono alcune persone immortali che attraversano la strada. Le hai viste, giusto? Sono immortali. Se un'automobile le tocca, c'è un'enorme quantità di dolore coinvolta e potrebbe esserci la morte. Ciò nonostante, molte persone vanno in giro nel modo in cui stanno andando. Immagina solamente se rendessi quella persona immortale. Il livello di atrocità che succederebbe in questo mondo. Quindi, l'unica ragione per cui molte persone si comportano con ragionevole buonsenso è a causa della mortalità. Hai visto qualche amico, o forse sei proprio tu, ad andare avanti con totale sconsideratezza. All'improvviso il tuo dottore ti ha detto che sembra che il tuo rene o il tuo cuore stiano cedendo? Forse hai... Se non correggi questo, forse tra sei mesi morirai. All'improvviso hai visto come sono diventate disciplinari? Si alzavano al mattino, facevano il loro yoga, mangiavano bene, facevano tutto bene. Hai visto queste persone? L'intera vita trasformata. Semplicemente perché gli era stata ricordata la mortalità. Devo dirti questo. È successo molti anni fa. Sono nella città di Bangalore. Mi piace andare nei mercati di verdure. Se sto guidando da qualche parte e vedo un mercato delle verdure, c'è un mercato settimanale, mi fermerò e ci entrerò. Contratterò tutto. Dal pollo alle uova alle verdure fino a quella radice pazza che ti renderà invisibile. Tutto. Mi piace semplicemente interagire. In ogni caso non comprerò delle verdure o del pollo. Contratto con tutti loro. Poi do loro dei soldi e me ne vado per il tempo che ho trascorso. Semplicemente contrattando senza comprare nulla perché non ho un posto dove portare ciò che compro. Quindi, così, quel giorno sono nel mercato delle verdure nella città di Bangalore. Poi vedo un uomo seduto lì a vendere verdure che risplende. Semplicemente lo guardo. Mio Dio, cosa diavolo sta facendo nel mercato delle verdure? Lui semplicemente mi guarda. I nostri occhi si incrociano. Poi lui scoppia a ridere. Anche io rido. Poi mi avvicino e dico Cosa diavolo stai facendo qui? E lui ha detto Vieni, vieni. Ha aperto il suo negozietto di verdure e mi ha chiesto di sedermi. Così entrambi ci siamo seduti nel negozietto. Poi mi racconta la sua storia. Stava facendo la sua vita normale. Moglie e due, tre figli e tutto quanto. Un giorno si è ammalato. Poi, così ammalato che lo hanno ricoverato in un ospedale pubblico, un reparto generale. Lo hanno messo lì. Ogni giorno pensavano che sarebbe morto, ma non è morto. Ogni giorno pensavano che sarebbe morto. Non è morto. Sono passati due, tre mesi, poi non c'era spazio. Allora lo hanno messo fuori nel corridoio perché questo tizio non vive, non muore. Così, dopo circa tre mesi, sua moglie ha smesso di andare e aveva perso la pazienza. Per quanto tempo andare a sedersi con lui? Questo tipo non vive né muore. Per quattro mesi o un po' più di quattro mesi. Stava sdraiato lì, nel corridoio dell'ospedale. Qualcuno gli tirava qualche avanzo e non sapeva. Ogni giorno pensava che sarebbe morto quel giorno, ma si riprendeva la mattina successiva. Di nuovo pensa che morirà. Andava avanti così. Dopo quattro mesi, lentamente, si è ripreso. Ma nel frattempo, gli era successo qualcosa di fantastico. Tutto è semplicemente esploso. Ogni giorno pensava oggi è l'ultimo giorno e poi si è aperto. Come un essere umano, splendente e beato, di nuovo è tornato a vendere le verdure. moglie è andata, figli è andati, tutto è andato. Soprattutto lui è andato. Il solo stare in contatto con la mortalità per quattro mesi gli ha fatto questo. Questo è importante. Devi rimanere in contatto con la natura mortale di chi sei. Questa sembra una cosa bizzarra. Oh, perché sta parlando di morte e noi vogliamo vivere? Quello che non capisci è che in questo momento posso dire che stai vivendo. o posso anche dire che stai morendo, stai effettivamente morendo. Un giorno il processo sarà completo. Sì o no? Ci siete? Sono solo due parole per la stessa cosa. Non è così? In questo momento stiamo morendo lentamente. Un giorno sarà completo. Oggi è attivo. È attivo o no? Oggi la morte è attiva o no? È attiva. Quindi ciò che chiami vita e ciò che chiami morte non sono due cose separate. È un'unica cosa che sta succedendo. Se diventi consapevole di questo, tutte le tremende possibilità dell'essere vivi diventeranno tue. Sì.